Le differenze uniscono e l'occasione sarà proprio la manifestazione di solidarietà promossa dalla Caritas di Salerno nel giorno dell'Epifania, quando nel complesso monumentale di Santa Sofia, in Piazza Bate Conforti, si terrà una serata aperta a tutta la cittadinanza, tra cultura e musica, da condividere insieme con le tante persone che vivono momenti di difficoltà. L'Epifania l'abbiamo invertito stavolta. I tre remaggi andarono a Gesù, adesso Gesù va da tre remaggi. C'è nel senso che molte persone che durante l'anno ricevono attenzione vogliono con l'Epifania dare loro un'attenzione alla comunità salernitana. Quindi l'abbiamo pensato in questi giorni, abbiamo trovato la grande disponibilità dell'assessorato alle politiche sociali, abbiamo trovato anche le associazioni, i nostri volontari tutti disponibili a fare questa esperienza. e quindi vuole essere una giornata proprio di vita, di felicità, di vissuto, di intrattenimento e di condivisione. Cioè dire, ecco, tante volte voi ci vedete un po' anche con un occhio un po' indiscreto, ci vedete con una certa diffidenza. Noi in questo giorno vogliamo dire che quello che voi avete speso, spendito ogni giorno dell'anno per noi, noi siamo pronti a dare anche la nostra parte, portare il nostro piccolo contributo. Prevista l'esibizione di artisti locali, musicisti e sullo sfondo anche una mostra di quadri realizzati dai ragazzi dell'associazione Salti in Mente e dalla comunità Rom. La serata sarà anche l'occasione per guardare avanti al prossimo grande obiettivo che la Caritas di Salerno ha in mente da tempo, realizzare la casa madre di Teresa di Calcutta per ospitare i più bisognosi. Le persone hanno molto sofferto, dovranno ancora soffrire per un po'. Noi siamo un po' attrezzati e abbiamo chiesto anche a coloro che ci collaborano di avere una maggiore attenzione e questo ci spinge a fare di più, stiamo realizzando ancora di più e vorremmo, dicevo anche con qualcun altro, nei giorni scorsi lo ripetevo e adesso sono ancora più convinto e ripeto, la casa madre di Teresa di Calcutta, questa casa d'amore, la devo realizzare. Non ho più dubbi, piano piano, con sacrifici, chiedendo a ciascuno di voi di darmi una mano perché insieme con un mattone alla volta la riusciremo a costruire. Le cose che servono, lei non si stancherà mai di dirlo, l'ha detto già più volte, delle semplici coperte. Anche delle semplici coperte, questa occasione del 6 gennaio a Santa Sofia può essere anche un'occasione che molte volte uno si scoccia di scendere da casa per portarlo, può essere questa un'occasione che qualcuno ci viene a trovare, sia qualcosa di vestiario, di abito, di qualcosa che vuole condividere, che sa che qualcun altro può avere bisogno, è una cosa che accettiamo e diciamo grazie in anticipo.